Hai segnato il gol, hai vinto il Napoli, che cosa dici? Vabbè, è stata la seconda partita, noi ci ha basto un gol, speriamo che facciamo 1-0 da noi. Vorrei sentire il tuo parere su questo Napoli del primo e del secondo tempo. Vabbè, nel secondo tempo ha attaccato Brut e ha fatto quelli due gol, non lo so se c'era il rigolo, però quello rigolo ha buttato via la difesa nostra. Comunque tu sei soddisfatto della prestazione della tua squadra? Sì, vabbè, noi cerchiamo tutto il possibile per fare la seconda partita, noi 2-1 ci ha basto. 2-1 vi basta, vabbè.